Io dico a Salvini che di sicuro se lascia i progetti e viene a incontrare la comunità islamica, io l'ho invitato anche al nostro centro qui, l'ho invitato anche una volta in una trasmissione che eravamo io e lui, di venire, di vedere, di sentire. Io sono sicuro si sente da vicino e vivere dei momenti con noi cambierà idea di quello che dice. Ci sono di una minima parte, diciamo, e questa non per convinzione, non per ragione, ma delle volte purtroppo per motivi politici o elettorali che pensano che non hanno magari altri discorsi da fare o a presentare o a offrire alla popolazione e quindi vanno a parlare dell'Islam o della comunità islamica, un'invasione dell'Islam, ma tutte cose che la maggior parte degli italiani le sanno, che l'Islam dà valori, non invasa a nessuno, vuole vivere e vuole essere come qualsiasi altro cittadino, di essere libero di credere quello che crede e di praticare come sancisce anche la Costituzione italiana.